Bentornati al nostro appuntamento qui su Rete8. Oggi parliamo di nuovo di reddito di cittadinanza. Ne abbiamo parlato molto negli scorsi mesi, è un argomento che interessa tutta l'opinione pubblica, in particolare era emerso il problema di chi dopo aver presentato la domanda decideva di rinunciare al reddito di cittadinanza. Come voi sapete in un primo tempo non si poteva rinunciare, da poche settimane l'Inps ha rilasciato un messaggio e un modulo con cui è possibile effettuare la rinuncia. Vediamo insieme come. In primo luogo la rinuncia vale sia per il reddito di cittadinanza che per la pensione di cittadinanza. La rinuncia non può essere fatta da qualunque membro della famiglia, ma solo dal richiedente titolare che è anche il titolare della carta, il quale non dichiara solo per sé, quindi non è una rinuncia individuale, ma è una rinuncia in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Quando si può rinunciare non è richiesto un particolare momento, a prescindere dalla fase in cui si trova la domanda si può comunque presentare il modello di rinuncia, quindi subito dopo la presentazione della domanda, ma anche se già si fruiva del reddito di cittadinanza da diverso tempo. Vediamo il modello. Il modulo SR 183 è quello che vedete nella slide, è una dichiarazione firmata appunto dal richiedente e indica anche tutti i familiari. Cosa comporta la rinuncia? Molto importante è la disattivazione della carta rilasciata per il reddito di cittadinanza, che vuol dire che eventuali importi residui verranno comunque persi. Ulteriore effetto, noi sappiamo che molti nuclei erano percettori del reddito di inclusione, il REI. In caso di rinuncia al reddito di cittadinanza, vediamo nella prossima slide, non c'è in alcun modo la riattivazione del REI di cui si fruiva precedentemente. Quindi la rinuncia al reddito di cittadinanza comporta la rinuncia a tutte e due le tipologie di sostegno. Appunto come dicevo si è parlato molto di reddito di cittadinanza, vediamo l'impatto sulla nostra regione. Noi abbiamo fatto una piccola slide che riguarda le sole domande accolte fino al mese di luglio 2019, voi sapete che all'inizio del mese si presentano ancora le domande, quindi queste sono quelle accolte fino al mese di luglio 2019 e abbiamo messo i 10 comuni più numerosi della regione. Come vediamo Pescara, città più popolosa della regione, ha il numero più alto di domande accolte, ovviamente in questo caso parliamo di domande, ogni domanda è costituita da un nucleo familiare, quindi sono molti di più i cittadini interessati, seguita da Montesilvano, Avezzano e poi seguono gli altri tre capoluoghi di provincia. Le altre domande sono della zona della provincia di Chieti, quindi Francavilla, Vasto, Lanciano e Ortona. Questo ci testimonia qual è l'importanza e qual è l'interesse della cittadinanza per questa tipologia di prestazione. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata.